è un momento dove la democrazia è come la mia voglia di festeggiare oggi la champions della lazio vi lascio fare come vi pare a belli da casa belli mia prima cosa il video di udine purtroppo dato che stasera diventato tutti mentecati qui bisogna dare anche alcune spiegazioni il video di udine non è una questione di lavoro di colori è una questione di sensazioni se non capite manco questo vuol dire che vi ripeto a 104 non basta vediamo da a 5 20 a 380 vedrete mettete dita dentro la trotta non lo so se non capite sta cosa altra cosa che ho capito dal video che la gente commenta senza guardare il video per come ciao avete rubato se tu avevi servito avevi capito che la partita non l'ho vista adesso parliamo dell'altra cosa fondamentale no no io no io di champions ancora no io sono vecchio sono un tifoso vecchio stampo e poi ricordiamoci che italia si italia no questa è la terra dei cachi dico di conseguenza io voglio festeggiare l'olimpico insieme ai miei fratelli quindi continuata più a bietti perché dovrà essere una bolgia è una festa domenica la voglio sul campo la voglio sul campo da io era volamo perché l'arte strisciano che lingue